Si è spento all'età di 81 anni Gigi Simoni, uno dei tecnici di calcio più noti del panorama nazionale che allenò anche il Piacenza all'epoca della Serie A. Da diverso tempo, circa un anno, si trovava in condizioni precarie in seguito ad un ictus che lo colpì nel giunglio dello scorso anno, mentre si trovava nella sua abitazione nel Pisano. Simoni è rimasto per tutti il mister della Cremonese, ma soprattutto dell'Inter di Ronaldo il Fenomeno, che a fine anni 90 battagliò con la Juve per lo scudetto. Sono immagini ormai consegnate alla storia calcistica, quelle della gara con la Juve del 26 aprile 1998. Per tanti anni a cerimo nemico del Piacenza nei derby del Po, nella stagione 99-2000 approdò sulla panchina bianco-rossa senza troppa fortuna. A metà del girone di andata, dopo risultati molto deludenti, fu esonerato. Allenatore che ha saputo farsi amare da tanti per i suoi modi signorili, Simoni ha chiuso la sua carriera nella veste di presidente della Cremonese fino al giunglio del 2016.